Ancora un noir di Simenon. Sigla. Lo so che vi ho già parlato di un sacco di romanzi di Simenon e questo è l'ennesimo noir di cui vi parlo, ma non posso lasciarlo fuori. Questo L'Assassino, scritto nel 1935 e pubblicato nel 1937 per Gallimard, è scritto a con blu nell'alta Savoia, in Francia, quindi sulle Alpi, è veramente un libro che secondo me è probabilmente uno dei noir più particolari, uno dei noir più atipici anche in un certo senso, che mi sia capitato di leggere. Probabilmente Fa il Paio con la Morte e Paga Doppio, di cui vi ho già parlato o vi parlerò prossimamente, perché in questo caso, anche in questo caso, tutto quello che avviene non è all'esterno ma è all'interno del protagonista. Nella Morte e Paga Doppio, la questione è un po' diversa, c'è un punto di vista interno, è il protagonista che parla e che racconta. Qui il narratore è esterno e vede quello che è e descrive soprattutto quello che succede all'interno del protagonista, con lo stile inimitabile di Simenon. Eccolo qua, L'Assassino di Georges Simenonio, ce l'ho in ebook. Tra l'altro mi ero anche dimenticato di averlo nella mia libreria. Pubblicato per Adelphi nel 2011, la traduzione di Raffaella Fontana, e si tratta di una storia che avviene in questo paesino dell'Olanda che si chiama Sneek, o Sneek, non so come si legga. E il protagonista è questo Hans Kuperus, che è un dottore di 45 anni. Vi lascio immaginare quanto mi possa essere immedesimato in questo personaggio, visto che è quasi la mia stessa identica età e che è il lavoro che faccio anch'io. E questo Hans Kuperus ha una moglie che si chiama Alice Kuperus. E questa Alice Kuperus viene descritta come una donina paffuta, con questo viso rosa che sembra di porcellana, sempre intenta a sferruzzare, a fare i lavori a maglia. Una donina di casa, però una donna dell'alta società, non so come dire, una donna un po' bigotta, me la immagino, un po' noiosa, ecco, forse la parola giusta è che è una donna un po' noiosa. E loro vivono facendo questa routine interminabile, che è una cosa che probabilmente a Simenon dava un fastidio dell'anima, anche se lui era un amante della routine per come scriveva, perché la famiglia di questi Kuperus viene descritta con una costanza di avvenimenti che si susseguono in giorni prestabiliti, c'è una copia di amici che viene a cena, lui apre l'ambulatorio da una certa ora a una certa altra ora e vede i suoi pazienti. Alice Kuperus fa sempre questo tipo di vita monotona di un certo tipo di borghesia, che è facile immaginare anche nella borghesia francese, è facile immaginare nella borghesia italiana e sicuramente era così anche in quella olandese. In questo pesino snack, che è costantemente sommerso dalla nebbia, dalla neve, c'è sempre maltempo, quello che avviene è che Kuperus viene a sapere che sua moglie è un amante. E quest'amante non è una persona qualsiasi, ma è questo shooter, che praticamente è il dominus del paese di Sneak, che è praticamente l'uomo più ricco, quello che ha la villa più grande, quello che può essere eletto a carica di sindaco, ed è il presidente del circolo del biliardo, dove Kuperus si ritrova con tutti i personaggi, diciamo, della media borghesia, le persone che contano di Sneak, dove va appunto a giocare un appassionato di biliardo e un esperto di biliardo, ma al rammarico di non essere mai stato eletto a presidente del circolo di biliardo, perché capita, perché tocca sempre a Shooter, che è diciamo il dominus di questo paesino dell'Olanda. Il nostro Kuperus viene a sapere che proprio Shooter è diventato amante di sua moglie, quindi pensate, una donnina così tranquilla, insospettabile, noiosa, che sta a casa a fare questo maglione, questo lavoro a maglia, una donna che sembra non avere emozioni, che ormai ha una routine anche di coppia, una donna non bella, tra l'altro, che improvvisamente si trova a essere l'amante dell'uomo, probabilmente più odiato proprio da Kuperus, perché lo invidia per quello che rappresenta e per quello che è, e che lui probabilmente non sarà mai. Viene a sapere di questo rapporto adulterino tramite una lettera anonima, che lui chiaramente strappa e fa sparire. Questo succede tutto nelle primissime pagine, quindi non è uno spoiler. Quello che succede è che Kuperus, che appunto è un abitudinario, che fa questo viaggio ad Amsterdam proprio per riunirsi una volta al mese, di martedì mi sembra, per riunirsi con la società dei biologi, dei medici, eccetera, compie un duplice omicidio, i danni di Alice Kuperus, di sua moglie, e di questo shooter. Quello che è interessante in questo libro è che tutto il fuoco non è legato a un'indagine, non è legato al come viene assassinata la coppia di amanti. La vera parte interessante è come Kuperus scenda lentamente, inesorabilmente, in un abisso che è quello che colpisce un uomo, che dovrebbe essere per bene, anche se ci sono dei riferimenti nel testo che fanno pensare che lui non fosse così una persona per bene, ma è la discesa inevitabile, inarrestabile di un uomo nella profondità della depravazione del suo animo. Perché cosa succede a Kuperus? Kuperus intanto uccide questi due amanti, torna a casa e ha questa serva, viene chiamata proprio così, la serva alla domestica in casa, che si chiama Neil. Ecco una donna con questi lineamenti, la fronte bassa, la mascella squadrata, insomma una volitiva, possiamo dire, ma dice anche che non era una bella donna, però una carica sessuale molto potente per Kuperus. E quindi cosa succede? Che Kuperus, quando torna a casa, dopo aver ucciso la moglie, inizia lui un rapporto con questa domestica, con questa serva. Se la porta a letto, inizierà un rapporto quasi matrimoniale con lei, che sarà ai suoi ordini per tutto il tempo. Ma la cosa che mi è sembrata veramente incredibile, che dà molto bene un'idea di chi è questa serva, questa Neil, è che lei continuerà per tutto il libro a dare del lei a Kuperus, che invece le darà del tuo e le darà degli ordini. Preparami a cena, preparami il letto, vieni giù, vieni su, stanotte dormi con me. E lei non può negare quello che il suo padrone, perché lui che le dà i soldi, le comanda. Anche se di fatto lei diventa la padrona di casa. E quindi già questo è un contrasto, è un conflitto gigantesco che c'è in questo libro, che rende il tutto molto cupo. E all'esterno di casa Kuperus ci sono chiaramente le voci di tutti quelli del paesino, del paesino di S.N.I.K., che chiaramente hanno mangiato la foglia e capiscono che è Kuperus che ha ucciso Alice e che ha ucciso il suo amante. E piano piano il paesino si stringe intorno a se stesso, si chiude in se stesso e progressivamente si allontana da Kuperus, che è chiaramente un omicida. Il fatto è che nessuno alle prove, non saltano fuori le prove per condannare o per dimostrare che è stato veramente Kuperus a uccidere i due. Ma questo non impedisce al paesino di allontanarsi e di isolare Kuperus e in un modo o nell'altro gli si suggerisce di andare via dal paese. Quello che è veramente incredibile in questo libro è come l'animo di Kuperus venga descritto in una spirale, in una perversione sempre più profonda, sempre più buia, del suo modo di agire, del suo sentire, del suo incarognirsi su se stesso, fino a diventare veramente una persona orribile. E in realtà Kuperus è veramente un uomo orribile, perché all'inizio del libro, quando lui incontra un suo paziente, dice sostanzialmente che a questo paziente aveva fatto credere di avere dei dolori intercostali per tenerselo stretto e per continuare a visitarselo, ma in realtà questo paziente non aveva dei dolori intercostali, come li chiama qua nel libro. Quindi capite che è veramente già in nuce, come si dice, era un poco di buono questo Kuperus. E il cambiamento di Kuperus, che avviene progressivamente pagina per pagina, adesso qua non ve lo racconto, ma vi raccomando assolutamente di leggere questo libro, che è anche questo abbastanza breve, 170-180 pagina con gli standard dei Noir di Simenon, questo Kuperus inizialmente lui aveva pensato che avrebbe ucciso i due amanti e si sarebbe ucciso. Ma dopo che vede che le cose vanno lisce, che non lo beccano, che non l'arrestano, che tutto sommato non c'è un'incriminazione vera e propria, lui dice, ma perché mi dovrei sparare? Perché mi dovrei uccidergli? Non ne sono così sicuro che sia una cosa giusta da fare, che sia una cosa intelligente. Quindi non si uccide, ma va avanti nella sua perversione. E questo è indice del cambiamento interiore progressivo che avviene in lui man mano che la storia va avanti. La sua perversione, adesso non vi voglio raccontare tutta la storia, ma la sua perversione coinvolgerà altre persone. E quello che voglio dire adesso non posso, non voglio raccontarvi tutta la storia, perché sennò diventa troppo spoiler questo video, non voglio, anche se in realtà, vi ripeto, tutto quello che succede avviene all'interno di Cuperus, non c'è niente di narrativo, qua c'è veramente poco, c'è come lui fa il viaggio ad Amsterdam, come si compra questa pistola e uccide i due amanti, ma per il resto avviene tutto all'interno. Cioè quello che voglio dire è che le cose che gli vengono dette al circolo di biliardo, per esempio le cose che succedono dentro casa, non sono dei veri e propri avvenimenti, sono delle parole, sono dei dialoghi che Cuperus e le altre persone del paese Disney hanno tra di loro e mettono in evidenza quello che è il cambiamento che avviene nell'uomo che è un assassino. Infatti il titolo è l'assassino. Proprio per questo, perché tutto quello che succede è focalizzato sulla interiorità di Cuperus, che è diventato un assassino. E la cosa che, come vi ho detto all'inizio, questo è un noir anomalo. Perché un noir anomalo? Proprio per il fatto che, anche se alla fine poi risulterà che c'è un giudice e che è stata portata avanti un'inchiesta, ma in tutto questo romanzo, sostanzialmente la parte dell'indagine, dell'investigazione, la parte del giallo, non so come dire, è completamente fuori dalla porta, non c'è, è tagliata fuori. Mentre quello che c'è, come vi ho detto, è proprio l'interiorità. È il solito noir psicologico di Simenon, ma questa volta ha portato a un livello estremo. La descrizione dello stato d'anima è estrema, così come sono estreme gli avvenimenti che accadono proprio in Cuperus, dentro casa sua, che diventa una sorta di recinto, una sorta di, come posso dire, di riserva, dove lui si agita con la sua Neil e cerca di tenere duro e cerca di mantenere questa normalità che poi lo porterà a una sorta di pazzia, alla fine. Gli avvenimenti non sono nulla e anche, come vi dicevo, l'indagine che viene portata avanti sostanzialmente non è una vera indagine, perché se uno avesse voluto fare veramente le cose come si deve, qualche indizio, qualche elemento l'avrebbe trovato e Cuperus sarebbe finito in galera. Ma sembra che, e in questo io vedo una parte di colpevolezza anche del paesino di Sneak, sembra che, proprio perché lui era un notabile, come si diceva, un medico, era una persona importante del paese, il paese stesso non vuole che ci sia questa macchia, non so come dire, nella società di Sneak, ma vuole semplicemente che questa macchia venga eliminata, che sparisca e che non sia più lì, lo vogliono fuori dal paesino. Tutto questo fa vedere come, in realtà, come posso dire, anche il senso di giustizia di queste persone che vivono lì non vogliono condannare un assassino, vogliono semplicemente non averlo più davanti agli occhi e questo, secondo me, rende in gran parte colpevole anche l'ambiente in cui Cuperus vive e in cui viene inserito. E poi vi leggo queste due righe che mi sono sembrate molto, molto belle, che danno una definizione, secondo me, molto azzeccata di quello che è il pettegolezzo, di quello che è il parlare dei paesi, dei piccoli centri, ma anche delle città, quando l'estensione diventa nulla e ci si riduce al microcosmo delle conoscenze o delle persone con cui si interagisce. Sentite, perché questa è un'altra di quelle descrizioni in due righe magistrali che solo Simonon sa fare così bene. Sentite. Nessuno sa niente. Cosa vuoi che si dica? È proprio quando nessuno sa niente che si parla di più. Allora, cosa si dice? Questo passo è bellissimo. Quando nessuno sa niente si parla di più. È così che funziona il pettegolezzo. Quando uno suppone e poi partono le malelingue, lo shitstorm, come si usa a dire oggi, ma le malelingue, la maldicenza, sapete, le comarine del paesino, la solita situazione che è comune a tutto il mondo, a tutte le latitudini, a tutti gli esseri umani. Il pettegolezzo, la maldicenza, che è una malattia, un morbo terribile e che è descritto molto spesso in modo veramente magistrale nel suo insieme da Agatha Christie, nei gialli, soprattutto in quelli di Miss Marple. E poi un'altra notazione, anche qua vi leggo due righe, per farvi vedere con un occhio appunto alla scrittura al buon scrivere, come Simonon utilizzi lo show don't tell in modo magistrale. Magistrale. Sentite qua. Perché poteva dirlo in mille modi descrittivo, poteva fare una descrizione molto lunga, dettagliata, invece con due righe riesce a far capire lo stato d'animo di questa persona. Hans, la smetta, la smetta o me ne vado. Jane si tamponò gli occhi col fazzoletto, la sua gola palpitava. Quindi questa Jane è rimasta scioccata dal modo che Hans Cooperus ha di trattare lei, il suo marito, sono degli amici chiaramente che erano a casa sua, e sta piangendo ed è emotivamente coinvolta ed è disturbata dal suo modo di essere. Guardate come Simonon in una riga, Jane si tamponò gli occhi col fazzoletto, la sua gola palpitava. Due righe per descrivere una situazione, uno stato d'animo e un tipo di persona che usa il fazzoletto per asciugarsi gli occhi, di quella società, di quel mondo. E poi vi parlavo appunto della mentalità bigotta di questo paesino, di questo Sneak, di come ci sia una sorta di ipocrisia, le maldicenze, eccetera. Guardate anche qua come viene descritto da Simonon. Capite l'ipocrisia? Cioè una donna che ha tradito il marito non si può entrare in casa di un adultero, di questo tipo di persone per la mentalità bigotta di quel mondo. E questo isola le persone. E ancora una volta voglio dirvi che Simonon, come pochissimi, riesce a cogliere, a descrivere in modo strabiliante la realtà del paesino di provincia dovunque esso sia. Perché non importa che sia il paesino di provincia della Francia, del nord Italia, del sud Italia, delle Alpi Svizzere o dell'Olanda. Il mondo funziona tutto allo stesso modo e lui, Simonon, riesce a cogliere questo tipo di provincialismo, questo tipo di piccola borghesia in modo strabiliante, eccezionale, il più grande secondo me a fare questo. Insomma, vi avrei voluto parlare molto di più di questo romanzo, vi avrei voluto fare molte più letture, ma non voglio annoiarvi, non voglio appesantire a questo video sull'ennesimo romanzo di Simonon, però veramente se amate quel tipo di noir psicologico, se amate quel tipo di intreccio dove... ma non psicologia pesante, non quel tipo di cose noiose, perché come Simonon descrive quello che avviene nell'interno dell'essere umano è qualcosa che vale mille volte di più di mille avvenimenti, di mille trame contorte, di un wudanito, di un thriller che vi spiegheranno cosa è successo, come sono gli inseguimenti, come ha fatto quello a trovare il meccanismo per uccidere la vittima, come ha fatto il Segugio a scoprirlo. Questo tipo di meccanismi non c'è, almeno non c'è in questi romanzi noir veri, nei romanzi duri, come li chiamava lui, però non immaginatevi una cosa noiosa, è una cosa complessa, è una cosa strutturata, è una cosa che fa vedere in 170-180 pagine quello che avviene all'interno dell'animo di un essere umano che è un assassino che ha commesso un delitto e la sua colpa, anche se lui non verrà condannato, anche se lui non verrà incarcerato, anche se lui non verrà ucciso, lo trascinerà in un abisso che sarà l'inferno personale in cui lui dovrà convivere, che sarà sicuramente molto peggio di un carcere, molto peggio di una condanna a morte. L'assassino di Gioro Simonon, anche per oggi ho finito, alla prossima. L'assassino di Gioro Simonon